eccoci con la nuova storia di oggi la principessa e il drago elisabeth era una bellissima principessa viveva in un castello e portava sforzosi abiti da principessa presto avrebbe sposato un principe di nome ronald sfortunatamente un drago fece a pezzi il castello incenere tutti gli abiti di elisabeth con il soffiato fiammeggiante e si portò via il principe ronald elisabeth decise di inseguire il drago e di riportare ronald a casa cercò dappertutto qualcosa da indossare ma l'unica cosa risparmiata dal fuoco che riuscì a trovare fu un sacchetto di carta così si infilò il sacchetto di carta e si lanciò l'inseguimento il drago era facile da seguire perché lasciava dietro di sé una scia di foreste incendiate e ossa di cavallo infine elisabeth giunse davanti a una caverna chiusa da una grande porta con un enorme batacchio afferrò il batacchio e battì alla porta il drago si affacciò e disse bene bene una principessa mi piace molto sbranare le principesse ma ho già divorato un intero castello oggi sono un drago molto occupato torna domani e rinchiuse la porta così rapidamente che elisabeth quasi quasi ci rimaneva con il naso pizzicato dentro elisabeth afferrò il batacchio e batte di nuovo alla porta il drago si affacciò e disse battene mi piace molto sbranare le principesse ma ho già divorato un intero castello oggi sono un molto occupato torna domani aspetta gridò elisabeth è vero che sei il drago più astuto e il più grande sputafuoco del mondo si disse il drago ed è vero disse elisabeth che puoi incendiare dieci foreste con il tuo fiato fiammeggiante oh sì disse il drago e prese un gigantesco respiro profondo e sputò fuori così tanto fuoco che incendiò 50 foreste fantastico disse elisabeth e il drago prese un altro gigantesco respiro e sputò fuori così tanto fuoco che incendiò 100 foreste strabiliante disse elisabeth e il drago prese un altro gigantesco respiro ma questa volta non sputò fuori proprio niente al drago non era rimasto abbastanza fuoco neppure per cuocere una polpetta elisabeth disse drago è vero che puoi volare intorno al mondo in 10 secondi soltanto ma certo disse il drago e spiccò il volo e fece un giro del mondo completo in 10 secondi soltanto era molto stanco quando tornò indietro ma elisabeth esclamò fantastico fallo di nuovo e così il drago spiccò il volo ancora una volta e fece un giro del mondo completo in 20 secondi soltanto quando tornò indietro era troppo stanco perfino per parlare quindi si sdraiò e piombò in un sonno profondo elisabeth sussurrò molto dolcemente ehi drago il drago non si spostò di un millimetro allora sollevò con una mano un orecchio del drago e ci infilò la testa proprio dentro poi strillò più forte che poteva ehi drago ma il drago era così stanco che non mosse un muscolo elisabeth scavalcò il drago e aprì la porta della caverna lì c'era il principe ronald che la guardò e disse elisabeth sei un disastro puzziti bruciato i capelli arruffati e indossi un vecchio sacchetto di carta tutto sporco torna quando sarai vestita come una vera principessa ronald disse elisabeth i tuoi abiti sono molto eleganti è una magnifica pettinatura sembri proprio un vero principe ma penso che in realtà tu sia soltanto un poveraccio e fu così che quei due non si sposarono dopo tutto fine